Gli ultimi candidati ad affrontare la prova di personalità vocale sono Thomas, Simone, Kevin, Luca. Avere talento secondo me significa essere unici, avere anche un proprio timbro, qualcosa di tuo. Io penso di averlo. Mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia, che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo, quando crolla l'improvviso. Sei la tua bellezza, è curiosa e nobile. Ho capito che qua non c'è da stare tranquilli mai, nel senso che è comunque un continuo mettersi alla prova. È un pezzo abbastanza difficile, poi comunque diverso dal mio modo di cantare in realtà. Alla parte migliore di me Domani è un giorno lontano Ora che Per l'unica volta ci andiamo No, non ci hanno distrutto. Ma andiamo a casa. Non penso che era così impegnativo. Allora ragazzi, io vorrei sicuramente fare i complimenti a Luca perché da collega, autore, cantautore so che è ancora forse più difficile a volte per noi magari cantare cose di altri quindi direi che tu sei promosso e passo al prossimo step, ok? Cerco di non farmi troppe illusioni o paranoia senza essere tranquillo e penso a cantare senza ancora sognare troppo, diciamo Thomas Entrare qui è il mio sogno, io faccio il benzinaio non è quello che vorrei fare nella vita Entrare ad Amici penso che mi possa aiutare in un mio futuro lavorativo Se chiudo gli occhi non so chi è che sta cantando Purtroppo qua finisce per te Amici Casting Non devi cantare come i dischi che senti, come i cantanti che senti ma devi fare Kevin che canta quelle canzoni Finisce qua Amici Casting Simone Vorrei magari sentire qualcosa ancora Ma ora Al prossimo episodio Moïtente Moïtente